Come declinare il tema della green economy in aree complesse? Come valorizzare le caratteristiche e le risorse delle aree montane con un approccio allo sviluppo economico sostenibile? È per rispondere a queste domande che l'Università di Camerino e l'Accademia Europea di Bolzano, Eurac Research, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno organizzato una a due giorni di incontri, idee e dialoghi con esperti, imprese e ricercatori sul tema della green economy nella regione appenninica. Sono stati messi a sistema metodi ed esperienze, ragionando sulle priorità condivise e sulle opportunità offerte dal territorio ai settori coinvolti nel processo di innovazione. L'obiettivo è stato quello di fare il punto su un modello per la green economy in aree complesse e comporre, selezionando metodologie e buone pratiche, una cornice per lo studio di una strategia di sviluppo green nella regione appenninica, coerente con i bisogni locali, integrata a livello istituzionale e in linea con gli obiettivi internazionali, quale ad esempio mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, diminuzione del consumo del suolo, spostamento verso le produzioni bio, protezione della biodiversità.